Oggi nella posta di ieri ho trovato una risposta di Ciucci rispetto ad una mia sollecitazione perché io dicevo che noi stiamo valutando con l'avvocatura delle azioni nei confronti di Anas perché questo ritardo evidentemente non giova al territorio. Oggi ho trovato due facciate di una risposta nella quale mi rassicura che nei prossimi giorni che Anas è protesa verso una soluzione che purtroppo entro l'anno si impegna ad iniziare a fare la posa della prima pietra rispetto alla 275.